Come fare a generare un fantasmino random in javascript e farlo muovere da solo all'interno del canvas? Scopriamolo insieme nel video di oggi. Bentornati carissimi ArchioFriends ad un nuovo video del Game Design Facile. Io sono la Tariel e quest'oggi continuiamo lo sviluppo del nostro Pac-Man. La volta scorsa abbiamo visto come inserire un fantasmino all'interno del nostro canvas e adesso dobbiamo assegnargli dei comportamenti. Se trovate utili i miei tutorial fatemelo sapere con un bel like e iscrivendovi al canale. Una cosa che hanno in comune molti giochi sono gli eventi random ossia una serie di cose che avvengono in maniera casuale. Noi vogliamo che javascript non inserisca sempre lo stesso fantasmino ma ne scelga di volta in volta uno a caso tra i cinque disponibili all'interno della nostra scheda degli sprite. Per fare ciò inseriamo una nuova funzione al di sotto della funzione Play Game. Questa funzione ci permetterà di ignorare i valori fissi e ottenerne degli altri casuali. In questo modo nel momento in cui andremo a settare le funzioni che dovranno far muovere il nostro fantasmino con l'inserimento del valore myNum sarà possibile ottenere dei comportamenti casuali. E adesso iniziamo a settare i movimenti del nostro fantasmino. Per prima cosa dobbiamo aggiustare le variabili relative agli score. E aggiungiamo Questa dichiarazione serve a controllare se il ghost, cioè il nostro fantasmino, esiste. Se non esiste, nel momento in cui il contenuto viene renderizzato bisogna fare in modo che vengano renderizzate le informazioni del fantasmino. Per fare ciò andiamo all'interno della funzione render e sotto le due funzioni che abbiamo usato per colorare il canvas inseriamo. Questa dichiarazione servirà a restituirci il ghost che abbiamo impostato poco fa con valore true, ossia darci la condizione di esistenza del fantasmino. E se non esiste, deve avvenire qualcosa, qualcosa che noi andremo a settare all'interno delle parentesi graffe. Quindi, se il fantasma non esiste, JavaScript deve crearlo o aggiornare le sue informazioni settando un valore per lui. Però, per ottenere un fantasma random, dobbiamo andare nella funzione drawImage che l'altra volta abbiamo usato per inserire il fantasmino rosso e cambiare il primo punto di ritaglio con questo valore, ossia il primo zero con questo. Questo ci darà la possibilità di prendere non solo il primo fantasmino rosso ma uno qualunque dei cinque presenti sulla nostra scheda degli sprite. Per fare ciò, gli dobbiamo assegnare Questo valore è impostato a cinque, perché cinque è il numero dei fantasmini presenti all'interno della nostra scheda degli sprite. Per 64, perché tanti sono i pixel di distanza in orizzontale tra i diversi fantasmini colorati. Se noi al posto di 64 mettessimo 32, rischieremmo di ottenere una delle animazioni che al momento non ci interessano. Ora dobbiamo assegnargli una posizione random sugli assi X e Y. In questo modo otterremo che il nostro fantasmino si posizionerà sulla mappa in un punto casuale compreso tra zero e il valore tra parentesi. Preparatevi a qualcosa di psichedelico. E come vedete il nostro fantasmino si posiziona in maniera random sulla mappa e vengono scelti di volta in volta fantasmini diversi ma hanno dato un po' di matto e quindi non riescono a stare fermi in un punto. Per sistemare questo problema basta fare. Perché il valore di false impostato qui deve diventare true. Come vedete con l'inserimento di questo valore il fantasmino non salta più sotto e sopra all'interno del canvas ma rimane l'in punto X all'interno della mappa. E se ricarico il gioco, come vedete, viene generato ogni volta un fantasmino a caso in una posizione diversa. Trovate utili le mie informazioni? Fatemelo sapere con un bel like e iscrivendovi al canale. Ora che abbiamo visto come posizionare in maniera casuale il fantasmino all'interno del nostro canvas dobbiamo dargli un bricciolo di intelligenza artificiale. Torniamo dove abbiamo creato l'oggetto nemico la volta scorsa e aggiungiamo un nuovo valore. Questo sarà il valore che indicherà per quanti secondi il fantasmino si dovrà muovere in una stessa direzione. Ovviamente il suo valore deve essere impostato affinché sia casuale e non predeterminato. Quindi dopo essere andato in una direzione per tot secondi JavaScript dovrà ricalcolare il nuovo percorso per il fantasmino che chiaramente dovrà partire dalla posizione attuale e non teletrasportarsi altrove. Diciamo che questo è un modo per dargli un minimo di intelligenza artificiale che gli permetta di prendere una decisione sulla direzione che dovrà seguire e mantenere per un tot di tempo. Questo tempo avrà un countdown che quando scenderà a zero dovrà ricalcolare tutto il comportamento. Aggiungiamo anche altri due valori. Questi due valori indicano le direzioni in orizzontale e in verticale del nostro fantasmino. E ora ci divertiamo. Torniamo nella funzione render e sotto la funzione ifGhost che abbiamo inserito prima inseriamo. Cioè quando il movimento del fantasma sarà minore di zero allora deve calcolare casualmente il movimento del nemico cioè dell'oggetto enemy che anche in questo caso dovrà essere un numero random compreso tra 0 e 20 moltiplicato 3 più 1. Ed è qui che voi potete divertirvi a sperimentare nuovi calcoli per vedere cosa succede all'interno del gioco. Inoltre con l'aggiunta del valore mynum sarà tutto più inaspettato poiché ogni volta avremo un numero random per il suo countdown. Se provate a fare un test adesso ovviamente non succede ancora niente perché non abbiamo ancora settato alcuna velocità. Vediamo come fare. In precedenza sia per il pacman sia per i fantasmini abbiamo settato il valore di speed ossia di velocità uguale a 5. Ma vogliamo che anche questo valore possa variare. Aggiungiamo. Anche in questo caso potete sperimentare altre combinazioni di calcoli. E per settare la direzione inseriamo. Questi valori sono entrambi settati a zero per un semplice motivo. Dobbiamo fare in modo che il fantasmino prenda una direzione casuale. Per fare ciò aggiungiamo. Allora se il movimento crea un modulo o un riporto. Si tratta di un calcolo davvero matematico. Fatemi un favore non chiedetemi spiegazioni. Fatelo e basta. Dicevo attraverso questa funzione il fantasmino dovrà prendere una direzione. E se non ci sono rimandi dovrà prendere un'altra direzione. che senteremo all'interno delle parentesi graffe. Quindi se il rimando non c'è deve muoversi a destra e sinistra. Se il rimando c'è deve muoversi su e giù. Ryuji hai capito? Sì, ho capito tutto. No, non ho capito niente. Uh, inseriamo. Cioè se il valore della posizione del pacman sull'asse x è minore rispetto a quella del fantasma. Allora il fantasma andrà in quella stessa direzione. Se invece è maggiore il fantasma andrà dall'altra parte. Allo stesso tempo avverranno due eventi. Cioè che la velocità del nostro fantasmino si modificherà risultando inferiore o uguale a quella impostata. Ossia 5. Facciamo la stessa cosa per il movimento in verticale. Cioè prendiamo questa funzione copia e inseriamola qui. Ovviamente cambiamo x con y. Ora dobbiamo decrementare il movimento. Per farlo aggiungiamo... Con queste funzioni alla posizione assegniamo la stessa più la direzione. In questo modo se facciamo un test vediamo che il fantasmino finalmente si muove. Solo che quando esce da un bordo se ne va in orbita. A questo punto bisogna fare in modo che quando il fantasmino supera uno dei bordi del canvas deve riepperire dall'altra parte. Esattamente come avviene per pacman. Si tratta del suo stesso procedimento. Quindi riprendiamo le stesse funzioni che abbiamo già usato per pacman. Le copiamo. E le incolliamo qui. Ovviamente cambiamo i valori player con enemy. Rifacciamo un test. Quando il fantasmino si deciderà di superare... Eccolo qua. Come avete visto superando il bordo è apparso dalla parte opposta. E siamo finalmente riusciti a generare dei fantasmini random che si muovono all'interno del canvas in maniera praticamente imprevedibile. Perché avete visto che i fantasmini cambiavano anche la velocità durante il loro movimento. E adesso ci mancano soltanto pochi passi perché siamo quasi alla fine dello sviluppo di questo fantastico videogioco. Come sempre vi invito a sperimentare nuove combinazioni e nuovi valori e a mandarmi i vostri lavori così che io nel prossimo video potrò mostrarli a tutti quanti per far vedere come può variare il gioco in base alla vostra personalizzazione. Trovate tutte le indicazioni su come inviarmi i vostri lavori giù in descrizione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividetelo su tutti i social che conoscete. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la famosissima campanellina per stare sempre aggiornati con le nostre prossime uscite. Inoltre se volete recuperare le lezioni precedenti a questa potete trovarla all'interno della playlist qua sulla i oppure giù in descrizione. Per oggi dalla Tariel Ryuji che ha capito tutto e tutto fino ad un prossimo video Un bacione e alla prossima! Ciao! 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 Ciao!